Chiusura del 2017 con il sorriso. Il Gravina batte 2-1, la Versa in trasferta e conserva la quinta posizione in classifica. Primo tempo senza retti, poi i Murgiani si scatenano in avvio di ripresa. Salatino sfrutta l'incursione di Caruso per rompere l'equilibrio dopo tre minuti. Il vantaggio non sazia i Murgiani. Orfani in attacco dell'infortunato Lionetti. Prima dell'ora di gioco, infatti, il Gravina raddoppia. Caruso è devastante sulla corsia mancina. Molinari non incide, Salatino invece sì. Doppietta personale 2-0. La Versa va a segno 5 minuti dal novantesimo con Barriale, ma l'acuto non basta ai Campani per completare la rimonta. Il Gravina, dunque, interrompe il digiro di vittoria e transita al giro di Boa nel giro Neac di Serie D con 29 punti all'attivo nella bagarre play-off. Dunque c'è anche la formazione di Antonio De Leonardis.